E' un vecchio pezzo del 49 che si chiama The Chiavonuga Shushite Boy e io volevo rifare nella versione, nel ricreare il sound originale del pezzo non avevo la batteria in stanza, avevo una percussione un po' strana e Sandro è riuscito a ricreare quello che sentivamo nella registrazione e solo per questo si merita un grande, grandissimo applauso adesso devi fare una cortesia, dai come ti chiami? Antonio, vatti a fare una passaggiata sulla spiaggia, scopri il mare e le bellezze del mare perché abbiamo bisogno della serenità il pezzo viene bene se fate a silenzio, perché se no viene da cagare Sì! 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 Ciao! Sì! Sì! Grazie.